Visita istituzionale nel fine settimana del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano sull'isola di Lampedusa, dove insieme al vicepresidente della Commissione Libre al Parlamento Europeo Pietro Bartolio e al sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello ha visitato l'hotspot che accoglie i migranti giunti alle coste del Nord Africa. Provenzano e Bartolo si sono poi recati alla Porta d'Europa, opera dell'artista Mimmo Paladino impacchettato nei giorni scorsi in segno di protesta contro gli sbarchi nelle coste lampedusane. Sono venuto a Lampedusa, dichiarato Provenzano, per portare la vicinanza delle istituzioni ad una comunità offesa da questi gesti, una comunità che ha tenuto alti in questi anni l'onore e la dignità dell'Italia intera e dell'Europa. Lo Stato non si lascia intimidire da questi gesti, la magistratura assicurerà i colpevoli alla giustizia, ma lo Stato italiano ha un debito nei confronti di quest'isola che deve essere riconosciuto con vicinanza e attenzione, soprattutto in questa fase difficile di ripartenza. Anche Lampedusa deve ripartire assicurando collegamenti e condizioni di sicurezza e vivibilità a chi viene da fuori e a chi ci vive ogni giorno. Sui grevi incendi che hanno coinvolto i siti di stoccaggio delle imbarcazioni dei migranti, Bartolo ha ribadito come si sia trattato di un gesto vile e inaccettabile che non fa parte della storia di Lampedusa e dei Lampedusani. Noi chiediamo, aggiunto, che ci sia un'attenzione particolare per questo clima di tensione che si respira sull'isola e ci rincuora la risposta immediata del governo che, nella persona del ministro Provenzano, ha voluto essere vicino al disagio dei Lampedusani che vogliono semplicemente ripartire, lavorare con dignità e rialzarsi sulle proprie gambe.